I residenti saranno sentinelle contro i furti in città ma anche contro altri episodi. C'è l'accordo con la prefettura. Si è sottoscritto un protocollo d'intesa molto importante sul controllo di vicinato. I cittadini potranno svolgere il ruolo di controllori attivi del territorio, potranno lavorare in sinergia con le forze dell'ordine segnalando tempestivamente ciò che non va e potenziali atti criminosi. Sostanzialmente i cittadini avranno un ruolo attivo di segnalazione così da prevenire tanti fenomeni che si registrano in centro. L'Aquila torna sicura il nome del comitato che ha riunito cittadini in associazione di categoria. L'aspetto più interessante del protocollo, visto di buon occhio dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, è la possibilità di realizzare dei progetti di inclusione. Tutti i commercianti, tutte le persone, diciamo città di persone, tutte le associazioni di categoria si sono unite per cercare di dare una mano, aiutare con tutte le nostre forze per cercare di tamponare a queste ondate che ci sono di piccoli furti. Comunque l'Aquila è una città che ancora prima era molto più sicura di oggi, anche se comunque questo primato lo mantiene. Vogliamo cercare di fare in modo che si sviluppi la sicurezza sempre di più nella nostra città. Ecco, partendo appunto dai cittadini potete inviare segnalazioni, insomma di più non potete fare ma è molto importante già questo, però c'è un altro aspetto di questo protocollo che è molto importante. Voi volete sviluppare dei progetti per includere i ragazzi, per dar loro una possibilità per evitare quanto più possibile la strada? Da queste riunioni che abbiamo fatto abbiamo percepito e capito che comunque questi ragazzi sono senza progetto, senza un'idea per il loro futuro e quindi vagano dalla città dalla mattina alla sera senza avere delle possibilità di trovare un lavoro eccetera eccetera. Questo ovviamente porta facilmente a trovare strade alternative e a delinquere. Questo non lo dobbiamo permettere, dobbiamo fare in modo che queste persone siano incluse nella nostra società.